Signori, quest'oggi giochiamo alla stanza, nuovo gioco del duo Sentiero Soledade, un gioco ambientato nel rinascimento italiano, da qui il nome, vedete questo mega plancione che rappresenta le varie stanze, e queste stanze sono quella della scoperta, della letteratura, della religione, dell'arte, dei politici e una stanza speciale per i token speciali. Ora abbiamo una pedina che si muoverà in senso orario lungo questo percorso, il giocatore potrà muoversi da uno a quattro spazi, ignorando tutti gli spazi già occupati dagli altri, oppure vuoti, e andrà a prelevare la tessera in cui approda. Questa tessera poi verrà piazzata nello spazio di reclutamento, sulla plancia del giocatore qui in alto, slittando le eventuali tessere presenti verso destra. Ora la tessera la deve prendere e sceglie se passare, non fare nulla, incrementare i soldi, quindi ottenere un introito, oppure attivare la stanza in cui è. Per prendere i soldi, semplicemente vado a slittare questo token verso destra, buttando fuori eventuali tessere che vengono scartate, e vado a prendere dei soldi fino a raggiungere il livello indicato dalla barchetta. Qua va da 8 a 15, quindi non prendiamo 15 monete per esempio, ma prendiamo fino ad arrivare a 15 monete. Ora quando muoviamo questo token a un certo punto arriva nello spazio più a destra, verrà girato ad indicare meno 5 punti, praticamente se facciamo questa azione troppe volte il gioco ci penalizza. Altra cosa che posso fare è attivare la stanza in cui sono, per attivare la stanza blu per esempio, il mio omino deve essere nella stanza blu, oppure devo scartare un politico, quindi una di queste pedine del colore corrispondente, oppure una pedina bianca che rappresenta praticamente un jolly. Ora noi avremo acquisito dei personaggi nel corso della partita, quando vado a fare questa azione per esempio, dovrò reclutare almeno un personaggio di quel colore, per esempio voglio attivare la stanza blu, devo reclutare almeno un personaggio blu. Questo personaggio blu andrà a sostituire uno dei miei personaggi che ho precedentemente piazzato, ne posso reclutare uno, due, tre, quanti ne voglio, e andrò a pagare le monete in base a cosa indicato. Sostituendo il personaggio, a questo punto andiamo a contare quanti token qua sotto abbiamo di quel colore, sommiamo eventuali token che scartiamo qui per incrementare di uno per ogni token rimosso dalla stanza della religione, abbiamo eventuali bonus da questi token, abbiamo un valore totale di forza. Con questa forza andiamo ad attivare la stanza, solitamente uno, due o tre ci fanno attivare la stanza stessa, con valori superiori a tre andiamo a creare dei capolavori, significa mettere una nostra colonna in questi spazi qui sotto e saranno tutti punti di fine partita a seconda di dove siamo arrivati. I giocatori hanno cinque colonne perché possono creare cinque capolavori, una per ogni stanza, quindi non posso creare due capolavori nella stessa. Quindi con questa stanza uno o due o tre di potere avanziamo di uno, due o tre spazi con questa barchetta che incrementa gli introiti, il massimo è 15, se avanziamo ulteriormente sono tutti i punti di fine partita a seconda di dove arriviamo alla fine. Inoltre quando passiamo o raggiungiamo questi spazi con l'omino bianco prendiamo un omino bianco dalla riserva che è un jolly. Attivando questa stanza andiamo a prendere uno, due o tre libri di colore diverso che verranno piazzati qua nella nostra plancia a completare le colonne e a sbloccare nel momento in cui copriamo lo spazio i vari bonus, possiamo mettere dei token nella sala della religione, possono essere dei punti di fine partita, uno o meno del colore a scelta non bianco oppure due avanzamenti con la barchetta. Nella stanza della religione mettiamo uno o due o tre marker in tre spazi diversi qui in alto, non posso metterlo nello spazio religione che è qui perché è praticamente un jolly, può valere per qualsiasi stanza. Qua a seconda della forza uno, due o tre andiamo a prendere la statua o questo o il quadro e questi sono token di cui sommeremo il valore, vedete valore due, tre o quattro per ottenere i punti a fine partita. Qua abbiamo la politica, quindi prendiamo uno, due o tre omini diversi non bianchi e qua abbiamo dei token speciali che noi possiamo prendere se soddisfiamo un certo criterio e ce ne sono tre per categoria, quindi questi rappresentano la stanza dell'arte, questa la stanza della letteratura e così via. Per prendere il primo di un tipo, per esempio di quello dell'arte, dovrò avere un valore minimo delle mie opere d'arte completate e per prendere quello della letteratura dovrò completare uno, due o tre righe di libri se prendo il primo, secondo e terzo, insomma ci sono dei requisiti io prendo il token e devo scartare un omino del collare corrispondente e devo piazzare qui uno dei miei marker a fine partita, secondo della maggioranza di questi marker, ovvero di quanti token speciali abbiamo preso avremo dei punti di fine partita. il gioco dura un numero di round, uno in più rispetto al numero dei giocatori quando si trigger a fine partita si finisce il giro e poi i giocatori avranno a disposizione a testa esattamente tre turni a testa in questi tre turni, ultimi tre turni, i giocatori potranno passare mettendo la propria pedina in questi spazi a seconda del numero dei giocatori e saranno aggiuntivi i punti di fine partita ora nel corso della partita nel momento in cui due stanze sono completamente vuote non ci sono più token, si attiva il refill e quindi si refillano tutti gli spazi compresi gli spazi occupati dalle pedine dei giocatori e l'indicatore del turno avanzerà di uno adesso questo è molto rapidamente come funziona è chiaramente una raccolta tessere una attivazione il gioco meccanicamente non è così complesso anzi proprio per niente quindi non è necessario un esempio di gioco del resto non è un gioco particolarmente accattivante e sono rimasto anche un pochino fuorviato anche molte persone lo sono rimasto riguardo a questa cosa qui chiaramente è un duo, è un gruppo di designer che ha creato dei gioconi nel corso del passato e chiaramente Nippon e Compagnia Bella rimangono insuperabili e questo può eventualmente passare inosservato diciamo che è un tema appiccicato qua più che mai un pochino a caso nel senso che tutti questi personaggi rappresentano delle personalità storiche ma sono praticamente carne da macello sono token che io prendo grezzamente e piazzo lì senza un carisma il token stesso che mi dice qualcosa di quel personaggio invece sono praticamente dei colori io avrei potuto mettere un token completamente blu un token completamente bianco chiaramente è un german quindi non ci focalizziamo così tanto sul tema soprattutto se viene semplificato però chiaramente dà l'impressione di un qualcosa di veramente randomico sia nel tema sia nella meccanica perché queste tessere escono veramente a caso molto spesso te le fregano rimani un pochino incasinato nella tua situazione in base a quello che vuoi fare perché comunque cerchi di differenziarti cerchi di creare delle opere d'arte nelle varie stanze e quindi di prendere tessere diverse ma a un certo punto ne hai tantissime a disposizione di un certo tipo hai già fatto questa roba e cerchi di andare nelle altre stanze insomma è tutto un meccanismo non contorto ma veramente molto molto randomico in tutto il suo complesso quindi non lo so non è un gioco che ho gradito particolarmente quindi purtroppo è andata così speriamo comunque nel prossimo questo è quanto tutto qui e ci vediamo per un altro gioco saluti e saluti 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 Grazie.